Il portale del Comune General de Fascia rappresenta un approccio sistemico e il condensato di una serie di applicativi a partire dall'aggregatore, a partire da strumenti come Sensor Civico, Cosmos, che in questi ultimi tre anni di attività dell'area innovazione del Consorzio dei Comuni sono stati sperimentati e testati a partire proprio dal Comune di Trento. Oggi comunque già quattro comunità di valle e circa sei, sette comuni hanno già deciso di adottare il sistema ComunWeb OpenPA come propria piattaforma. Comune di Trento